Ciao ragazzi, siamo Giannetri Scorsani di Lord Shemus, ci eravamo lasciati in questo preciso punto la volta scorsa e dobbiamo aver ucciso un capitano alla sua volta e ora ragazzi sarà una bella missione difficile perché saranno belli forti ma noi ce la faremo perché il mio socio è il più triste del mondo, bene ragazzi iniziamo, questo sta dormendo non si sta canna ci diamo che è meglio ahhh, meglio si è schismi ecco, ci faccio di qua anche tu, non mi ha fatto vedere capito, puoi fare ecco chi sta tu? l'ho mai visto c'è il ruolo di dietro eh chi sta? c'è dimmi te come ha fatto vederli beh beh, questo qua è l'evento della vita si vede l'altra volta che è andato? nooo bene oh, abbiamo un nuovo scudo che sembra molto meglio e hai trovato anche delle altre cose interessanti livello 29 eccolo da sopra guarda vai su eccolo lì ah questo vabbè lo mettiamo qua chissà come sono vedremo l'aspetto eccolo la, adesso dobbiamo uccidere quello la in incognito che ce lo dovremmo fare merda non so è brutto che ero qua dietro non so come vi ha fatto vederli eh perchè ha finito di cannarsi allora dopo t'ha visto anzi vedeva le pecore che volavano e vedi va tra loro sui muri eh esatto questo qua dovrebbe essere abbastanza semplice nessuno muore anche lui si, almeno questo muore ragazzi speriamo di aumentare un po' di livello perchè infatti ragazzi non siamo neanche a metà del 29 merda forse ma c'è un tesoro è un posto da tesoro invece niente per idea si ma dai per ora che la figli ma vediamo un po' c'è gente che combatte a caso ehi cosa? ehi cosa? non c'è niente un tesoro non c'è niente proprio merda ma fa proprio schifo allora fa lo temi eh ti dicevo io infatti c'è una scavola non so che sei abituato a rampare ah ecco e quello da dove cazzo salta fuori ce n'hai uno dietro non credo niente aspetta ce n'hai uno dietro ma dai singhi porca troie guarda 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 che idiota guarda sei bloccato vabbè questo è morto e l'altro sta salendo le scale ma è morto ma è morto come ha fatto noi? bella domanda non poniamocelo neanche cosa è la roba finare prendiamo prendiamo eccolo l'altro seguito di livello 30 è vero cazzo è troppa gente quella ma ce n'è che un tesoro? quello lui forse è un tesoro no si è un tesoro era si ma che mare eccolo la la ce n'è uno solo l'assassino è prima quello del 31 bello 31 quello lì è quello di quello che sta passeggiando da solo e muore sull'oculto si si ma sta arrivando che è il talo guarda merda lì ce n'è uno che cosa è troppo a zinte è che va a tornare tutto il capitano ha tornato in giro è che va a tornare tutto il capitano è che va a tornare tutto il capitano è che va a tornare tutto il capitano è il momento giusto quel ciccio nel grassone uccidi ah merda se non ho chi Maledi morte basti. Eccolo qua, guarda, quello qua, segui il freddo. Pianchia, buono uomo. E cosa? Eheheheh! Perfetto, coloro di osso, signi dagli troce spugno. Oh, ti amo, eh? Ti amo, eh? Ti amo, eh? Che cosa?! Merda controllo, mazza. Hai tirato una città. Mori verme! Oh! Fantastico, con un corpo è morto. Ma hai fatto la data? No, però sono noto a fuoco. Ma ce ne sono due, ti amo. Si? Ci sono... No, uno è un capitano, l'altro è un comandante. Si, ho capito, ma vaffanculo. E poi c'è quello da assassinare. Ah! Che è tutt'altra cosa. Forte, bubasti! Localizza se c'è altra gente, Trio. Sicuro. Ma infatti, prima... Ma a me piace schiare! Prima che ti facciano... Ehi, cosa?! Adesso colpiscono alle spalle. No, no, no. Poi... Ragazzi, mi sto cagando, eh? Ragazzi, mi sto cagando, eh? Ragazzi, mi sto cagando, eh? No, un altro capitano, eh? Si, è capito. Un comandante. Quello è il capitano. No, no, no. Qual è il video... Devi aspettare, devi uccidere qualcun altro prima. Guarda se c'è qualcun altro con il seno. Pfff! Pfff! Sincero, viva! Pfff! 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 Vediamo un po'. Troppa gente qui. Bene, intanto, c'è di quelli più piccolini, ma che è tipo quelli là che stanno dormendo. Quelli da su, ma che è quelli che stanno dormendo, tipo... Pfff! 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 מora, trovo bus! Perché lo take tanto sto forno? Beh, secondo te perché? Non lo so. Pfff! 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 Il dono da medaglia. Tie secondo. Pfff! 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 Sto darerei anche duro! bene, questi devono incisi ragazzi e andacene un altro e andacene un altro ancora questo ne ho diventato un parecchia vita si ce ne è un altro sopra si sei tu un cucciolo sei no questo non ce la fai più no si tutto quello che sai fare si sono tirati addosso tutto forte basti per uccidere quelli dentro alla tenda ecco lui invece dai fiori vuoi ok ok ci ti fai a cavallo eh a cavallo torni di più so che bisogna beccarlo cazzo ma è andata in te ci cazzo no non è vero sei te da momento muori lui ha deciso di farlo devi colperlo in testa ho visto che gli togli un po' eh in testa si eccolo eccolo adesso gli dogli una sparata cazzo ma ok che due balli finchè qui sopra eccolo lì perché questo è così morto eccolo c'è un altro 2 balloni 2 balloni ma anche ma io sto andando perchè perchè non hai foco scusa perchè non hai foco se vede di si bene lì sopra dovremmo avere un deciso tutti però non ci sono alcuna altra credo non tesori c'è un tesoro c'è un tesoro entrata segretta basta c'hai quattro altri tre tesori da prendere un tesoro chiamare merda ragazzi forte bubasti e 2 doppia spada vi ho trovato ma non te l'abbiamo ucciso non c'è un capitano che è il culo di fianco che è ma pesce prima il capitano non è il tesoro no c'è un altro il corpo che è il tuo corpo che è il corpo aaa che ha chi è la cosa? e ti fai che puoi che è il tuo corpo è il tuo corpo è il tuo corpo un poverino ha passato paura c'hai ragione eccolo eccolo, l'ha in testa lo becchi di capitano, no il capitano e merda non gli trovi niente trovi più a trovare con un piscicolo guarda dove c'è piantata dove c'è piantata? nel legno scherzi? hai bricato il legno? non ci guarda che un cavo ce la passiamo ora che non abbiamo fretta male ma ce la passiamo ah c'era un altro ti ha detto cosa? si dov'è che è? un micro ah lì sopra ma no è pure un micro testa bene e quello è quello da 32 non mi fai un cazzo vabbè vediamo il po' e ma? ok perfetto adesso si a cavallo a cavallo ma c'è l'altro per me e un po' massimo scappi prova nel nome di spartacus vediamo cosa succede nel nome di spartacus muoviamo prova dai NEL NOME DI SPARTACUS che sta chiedendo chi è che macchina? aspetta lascia trovo con questo invece ci arriva ovviamente no wow SPAN ma gli togliamo un cazzo ragazzi mettiti la freccia infuocata così prende fuoco ma non ce l'ho no non ce l'hai non ce l'hai non ce l'hai fuoco aspetta che no abbiamo bisogno di aspettare appunto che il ciengine di preda beh questo lo devo ammettere ma mi puoi aspettare ma è brutto vai sente shhh oh ecco 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 cazzo è cazzo ecco 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 Sparco in alto, cioè. E' normale che possiamo mandarle le sue frecce. Qua si sente meno forte. Certo, quelli togli 188 volte. Guarda, non rimane infuocato in un secondo. Ecco, adesso, sotto! Sotto! Sotto però colpisci, non rendi suddentissimo. Sì, specificamente! Nel nome di Spartacus! C'è la mosso speciale! Eccolo! Così, così. Continuiamo! Così la mosso speciale lo dobbiamo dopponere per l'altro. Per la soglia! Me l'avevo già visto addosso! Bravo! Ho mancato! Ottimo! Devo specificare colbiscialle! Nananananana! 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 Aspetta! No, ho mancato! Non si sonoimo! Se è un po' risultato ragazzi! Non è no? Non è. Il mio nome ha usato Bayek a girare intondo come su una sosta. Si, infatti. Te l'abbia fatta! Ecco! Eccolo! Eccolò! Mattato! Mi dispiace! Eccolo! 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 Eccolo un cazzo! lo so ooooh ma che cosa succede? muori ferme bene deprendiamolo ragazzi la festa che infatti era impagata è uno scudo più forte si è di uno sa di cane perchè? bene ragazzi quando finiremo un giorno lontano forte bubasti andremo a vendere tutto quello che abbiamo ricavato dai ragazzi ci vediamo la prossima puntata alla palline di gubasti in questa puntata ragazzi faremo solo forti bubasti quindi se non volete vederlo tananana nananana 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 e perchè l'ho beccato perchè l'hai colpito di tu nananana scendi e fagli la nostra sonora non so più per dover aiutare no lo so sei tanto bello uccidilo prendi lo porti fuori dal forte perchè è più bello c'è più spazio non ti segue il forte perché ha paura merda abbiamo finito anche le france una bomba no, sono là merda bella Yann si va perchè è l'ultimo ragazzi e con ciò l'abbiamo piccato e diventato un millesimo fatti sotto non fare il codardo NEL NOME DI KANIR no chi era prima nel nome di chi? avevo detto è morto il cavallo merda la merda proprio porca puttana ci ha bloccato anche la mossa speciale si stai più toccato il culo dai non puoi richiamarlo adesso il cavallo c'è molto? non direi qualcuno vabbè dai non crede non ti ha il codicolo uffati idioma non sai che è capace di beccarmi se l'è qua si 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 tra poco ti vedi una frecciata ti ecco sono in bordo di questa Double irono mi sono dietro bravo se guarda mi sta skills avanti da dietro e uccidilo per dire che se questa televisione finirà riso ecco la mi ha già visto non ci scommetti che mi ha già visto no che cazzo fai sembra di no fermo la mi ha già visto questa montagna eccoti la ora non dice eccoti la sta guardando che belle piante poi laggiù lo so addirittura un insetto questa non l'avevo mai sentita ragazzi è ritornato in vita a tu o no se non lo vedo dai cazzo me ne vado dall'altra parte ma dai però cazzo ma vaffan ancora non vedo c'è il cavallo che ti segue si mi stanno sceguendo tutti anche il cavallo vuol uccidere eccolo è il momento giusto il cavallo che ti mette in mezzo in mezzo a cazzo se l'avevi quasi fatta ragazzi si 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 se si si la sua corruzione ha avuto più uuuuuhhhhhh devo vedere gli altri come gli altri? cosa stai dicendo? possiamo potenziare ancora ragazzi intanto qua possiamo anche andare a Forte Bubasti ohhh ok dovrebbe lasciarci tornare anche devi andare dal fabbro quando andremo a vendere la roba ci pigliamo anche quelle intanto ragazzi torniamo indietro abbiamo completato Forte Bubasti no? no deve andare ancora allora ragazzi dai dai intanto che ci siamo intanto che abbiamo ammassato tutti e Forte Bubasti ne approfittiamo devo farmi vedere qua mi ha fatto in culare li ha ammassati tutti io i civili non li aiuto perchè sono un pezzo di merda ma dove cazzo sono i tesori ah no 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 sono sotto ah si sotto allora ci siamo quando i salami si ragazzi intanto che ci siamo finiamo tutto finiamo sto Forte Bubasti che se lo siamo meritati che abbiamo ucciso tutti e adesso finiamo anche i tesori così magari guadagniamo qualcosa di più ma tanto non c'è verso di salire di livello infatti va proprio bene adesso abbiamo finito c'è più di così pam solo 1500 va bene ragazzi completiamo anche la missione magari saliamo a livello 30 mi spede spero c'è bai ciò che cosa fa ti saltini da un metro in muore ai momenti chi su qui che rimane un cavallo eh ah no un cavallo cioè un mazzare anche lui eh ragazzi facciamo letteralmente cagare ma abbiamo finito la missione almeno forse è ancora detto è fatta merda da dove sono andate i contadini sono scesi in strada a distrarre i soldati erano indomani anche i livelli hanno collaborato tu li hai ispirati vai o meglio li hai affascinati le nostre fattorie saranno protette amano i loro rinomi di sicuro non lasceranno che un altro cocodrilo infesti il faiuto la tua gente è libera ora è un buon inizio che cosa e ce l'abbiamo fatta 4.500 colpifero che sappiamo di livello infatti si invece è livello 30 livello 30 e per guadagnare cose la bambola la bambola è un punto abilità che non ce ne facciamo un cazzo perchè abbiamo finito i punti abilità da dire bene ragazzi intanto selezioniamo subito la nuova missione che non sarà in questo gioco ma sarà in un altro direi che facciamo la missione principale da 7.5 eh si gabiniani non gabiani gabiniani e abbiamo un gabbro allora prima adesso ci spostiamo che facciamo in zona faiù quando facciamo un'altra secondaria no 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 dopo faremo una serie di cose secondarie perchè facciamo talmente schifo che abbiamo bisogno mamma se lontano merda e lì c'è un fabbro almeno allora si qua c'è allora c'è una bella cosa intanto signor fabbro come signor questo che ti spostiamo qua poi facciamo anche il punto di sincronizzazione ragazzi vi consiglio di farli tutti perchè così riuscite muovervi molto più velocemente tra l'altro seno ha molta più percezione cioè insieme a vedere più lontano diciamo ma la domanda una domanda vera e propria è che una volta che abbiamo completato tutti tutti i punti di sincronizzazione c'è un bonus e poi vi danno anche un po' di esperienza ragazzi quindi vi consiglio di trovarli tutti intanto nessun coso complicate basta salire giù sopra e siiii pollice in su se vi è piaciuto il video pollice in giù se non vi è piaciuto il video dato io mi tuffo commentate e iscrivetevi al canale ci salutiamo così con Assessi Iscriviti Origins ciao ragazzi alla prossima mi raccomando ci vediamo ciao